I have a wonderful electronic invention, I want you to see, it looks something like this. Il sogno di un imprenditore visionario, la storia della sua famiglia, il potere di una promessa. Sono gli elementi al centro di qualsiasi cosa accada. Il libro scritto da Filippo Boni, edito da Asca Edizioni, che ripercorre la storia familiare e personale di Fabrizio Bernini, fondatore di Zucchetti Centro Sistemi e attuale presidente di Confindustria Toscana Sud. Il volume alla sua seconda edizione è stato presentato nella sede di Via Roma degli Industriali nell'ambito del ciclo di eventi a carattere culturale di vita associativa promossi dal Comitato della Piccola Industria di Confindustria Toscana Sud. Una storia così profonda e così intensa che inizia un secolo fa, nel 1927, con la madre di Fabrizio Bernini, Ada, che viene lasciata nell'Istituto degli Innocenti di Firenze dalla mamma e che vive i primi anni della sua vita all'interno di questo istituto da sola e poi viene adottata in Valdambra da una famiglia di contadini. Fin da piccola, fin dai cinque anni, va a vivere con questa famiglia che la manda con i maiali nel bosco per molti anni. Poi le muore purtroppo la madre adottiva e prima di tornare in orfanotrofio viene fatta fare la scelta di andare a vivere con un'eremita che lei chiamerà lo zio Gianni. Saranno anni molto importanti per lei, molto formativi, nel quale da una parte unisce il dolore, la solitudine e ne fa uno strumento di forza e trasmette questo strumento di forza enorme a suo figlio che nascerà nel 1957 e che si chiama Fabrizio Bernini che crescerà con tutto l'amore del mondo, con l'amore dei genitori che lei non ha avuto e che lei muore dalla voglia di dargli, di trasmettergli e Fabrizio crescerà con questo grande messaggio dentro di trasformare i momenti difficili, di grande dolore, i momenti di forza ed è il suo segreto, quello che gli ha permesso di fare una carriera straordinaria superando tanti ostacoli, tanti momenti difficili e di andare avanti qualsiasi cosa accada e questo è il segreto del libro e soprattutto è un messaggio di speranza per i giovani. Una domanda di carattere personale a chi ha scritto questo volume. Nel momento che lei prendeva le informazioni sui vari capitoli della vita di Fabrizio Bernini quali sono state le sensazioni che lei ha provato? Devo dire che per me è stato molto molto emozionante anche molto difficile io ho provato a entrare in queste vite in punta di piedi con molta delicatezza, anche molto garbo perché comunque è molto difficile entrare nella vita di qualcun altro e avere anche la presunzione e la pretesa di raccontarla poi quindi inizialmente mi sono posto in questo modo poi mi sono anche reso conto che per una forma d'animo mio l'anima di Fabrizio era molto simile alla mia e quindi è stato anche più semplice come dire leggere il suo pentagramma e suonare la sua musica e quindi trasformare quelle note in parole e provare a scrivere questo libro. Presidente con la sua storia raccolta all'interno di questo libro lei sostanzialmente ha deciso di mettersi a nudo anche con aspetti prettamente personali di vita familiare per lanciare un messaggio molto importante lo ricordava l'autore anche con il superamento dei momenti di difficoltà, di sofferenza si può costruire qualcosa di importante. Sì io credo, chiaramente per far questo al di là poi di conoscere Filippo e so come scrive, quanto è stato bravo a scrivere questo e a riportare quello che realmente sentivo dentro di me però il coraggio, mettiamolo come coraggio di mettere a nudo quello della mia famiglia quelle sono le mie storie perché normalmente un imprenditore quando fa un minimo di successo si mette a scrivere libri dicendo della sua azienda invece io non ho voluto scrivere azienda ma ho voluto far capire come si può avere un carattere per farlo imprenditore e che viene da lontano non viene perché si crea, perché uno è nato ma perché io credo che sempre di più credo che per oggi per avere volontà, voglia, desiderio rabbia per raggiungere un obiettivo bisogna passare dalla sofferenza oggi uno che non ha sofferto mai e non soffrerà mai nella sua vita difficilmente ha volontà, voglia, desiderio e forza di fare le cose e su questo poi si è fatto è fatto perché noi adesso in azienda per fortuna o purtroppo siamo diventati veramente tanti e non ci siamo conosciuti più io prima facevo quello qui da me io quando sono entrato in Confindustria facevo un milione e mezzo di vecchie lire addirittura un miliardo e mezzo quindi neanche 700 mila euro oggi si supera 500-600 milioni quindi è chiaro che avendo oggi 650 persone io mi trovo a vedere delle persone mentre in azienda non mi conoscono io le ho raccontato anche l'altra volta c'è un ragazzo dico oh mi scusa quando sei entrato pensando mi rispondano la settimana scorsa in sanità ogni privato mi dicevo quattro anni sono qui e non l'abbiamo mai visti quindi io principalmente il coraggio era quello di far capire a loro chi ero io perché loro non potrebbero lavorare pure una persona senza conoscerla no poi da questo è nato il fatto che ha trovato molto successo anche fuori perché effettivamente soprattutto nelle scuole mi ha fatto piacere per esempio sapere due grosse aziende a Firenze e non solo hanno comprato libri per tutti i dipendenti oppure un preside giù in Puglia ha chiesto di prendere libri per tutti gli studenti perché è un messaggio a giovani i giovani qual è? che se io sono nato come sono nato e lo vedrete poi nella storia anche nel mio libro e ho fatto questo chiunque ha volontà di farlo a prescindere da come nasce può farlo quindi è una forza a chi comunque oggi non ha la possibilità o apparentemente non ha la possibilità di poter raggiungere gli obiettivi come si può dire non vi demoralizzate ma se ce l'ho fatta voi sicuramente potete farcelo se lei avesse la possibilità oggi di parlare con il Fabrizio piccolo bambino che cosa gli direbbe? gli direi che gli direi guarda credici qualsiasi cosa accada che la mia mamma diceva sempre perché poi vedrete nella famiglia non era così semplice non ti preoccupare qualsiasi cosa accada va avanti qualsiasi cosa accada te pensa ai tuoi sogni pensa a quelli sono gli obiettivi a quello che è la tua passione e non guardare in faccia a nessuno ma cerca di crederci e vivere per quel motivo lì io ho vissuto per questo motivo oggi ripeto sono orgoglioso di fare tutti questi stipendi a tante famiglie e quindi diventa una ricchezza anche nel territorio se vogliamo e la vera ricchezza è quella non è una ricchezza economica finanziaria ma è ricchezza di diffondere ovviamente quello che te fai e quello che non fai per la ricchezza delle famiglie non ci aspettava forse nemmeno lui e lo dice anche ho una vera convenzione elettronica che voglio che ti vedi sembra qualcosa come te